segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma allora innanzitutto diciamo quando prima chiedeva giustamente quando si guarda l'italia dall'estero e si teme il fascismo a che cosa si sta pensando non si sta tanto pensando al modo in cui giorgia meloni o il governo si posiziona rispetto al passato ma quali sono quegli elementi del fascismo che in realtà riecheggiano oggi no si diceva poc'anzi e quindi il nazionalismo e l'autoritarismo l'euro scetticismo quindi tutta una serie di componenti del fascismo che hanno modello orban diciamo per essere un po modello arriviamo all'ucraina un modello putin allora naturalmente come dire tra il putinismo e il fascismo ci sono differenze ma ci sono se uno deve pensare a in che modo si sostanzia il fascismo oggi in europa è il putinismo no poi il putinismo è una sorta di frankenstein tra nazismo fascismo modello sovietico con un tocco clericale no c'è veramente un po puri però a chiari elementi di fascismo